Lavori di montaggio dell'Avio Rimessa per il nuovo aeroporto di Linate che sarà una delle più vaste del mondo. Due potenti gru sollevano ad un'altezza di oltre 12 metri la seconda delle quattro travi principali, del peso di circa 1000 quintali l'una. Tutta la struttura è saldata elettricamente. La grande aviorimessa avrà una capienza libera di colonne di metri 122 per 60 e precisamente un'area di 7400 metri quadrati, un'altezza libera netta di 12 metri e una massima di 28 metri. Grazie per la visione!